Sindaco Dappodio ha annunciato che l'interlocutore per la formazione della nuova giunta del PID era l'onorevole Bosco. No, per quanto mi riguarda non era l'onorevole Bosco, perché il sindaco si era assunto un impegno ben preciso dopo il primo turno dell'elezione, quindi al ballottaggio, alla presenza dei deputati dell'onorevole Cascio e dell'onorevole Ruvolo, che a noi come PID sarebbe toccata un'altra postazione da dividere con qualche altro partito della qualezione del responsabile. Quindi oggi il sindaco non può venire a dire che non c'erano accordi o che il PID rivendicava due postazioni in giunta, che questo era un impegno preso in campagna elettorale e a ballottaggio. Io lo vorrei ricordare al sindaco, a volte magari è preso da tante cose, gli è sfuggito questo passaggio, però glielo voglio ricordare così, faccia un pochettino di mente al locale, quindi non ho problema io a poter dire dove eravamo e chi eravamo. Eravamo allo studio del dottore Giovanna Laimo e la presenza degli onorevoli Cascio e Ruvolo e c'era anche l'onorevole Bosco, perché era lui il principale autore in quel momento della politica locale a Favara, no che oggi non lo è, ma era lui la persona che aveva designato il sindaco Mancanella era la carica del primo giustadino, quindi aveva degli impegni con tutti i partiti della coalizione e quant'altro. Come mai siete usciti allora fuori dalla giunta? Ma guardi, siamo usciti fuori dalla giunta perché nelle varie interpartitiche che si sono susseguite nella vicenda politica, che a mio parere è durata a lungo, siamo usciti fuori lasciando libero il sindaco, anche perché noi non abbiamo fatto mai una questione di numeri, quindi abbiamo lasciato il sindaco libero di decidere lui, visto che aveva delle esigenze personali il sindaco, di nominare tre assessori nella propria giunta e quindi lo abbiamo lasciato libero perché noi o siamo partecipi o non siamo partecipi all'attività amministrativa, alla vita amministrativa attiva. Quindi noi, come ho ribadito in Consiglio Comunale, appoggeremo sempre quelli che sono i progetti propositivi che questa amministrazione vorrà portare a questo Consiglio Comunale, questo gruppo politico, non si sottrarrà mai a quello che sono le proprie responsabilità. Il sindaco ha ringraziato e salutato anche il vostro ex assessore, l'assessore Monreale, dicendo che è stata la migliore amministratrice che ha avuto il Comune Favaro. È la verità perché non lo diciamo noi, non lo dice il sindaco, lo dice tutta la città, lo dicono tutto il personale del Comune che ha lavorato assieme alla professoressa Monreale e quindi è stata una persona, abbiamo fatto una scelta sulla professoressa Monreale abbastanza esatta. È stato il partito ad obbligarla alla dimissione o è stata una scelta personale? È stata una scelta che abbiamo lasciato nelle mani del sindaco, quindi siccome la professoressa Rosetta Monreale, come diceva il collega consigliere Scalia, è una libera professionista e poteva ricoprire benissimamente il ruolo di tecnico, il sindaco ha deciso in questa maniera. Noi rivendichiamo sempre l'operato della dottoressa Monreale, anche perché è cosa visibile a tutti di quello che ha regalato in questi pochi mesi al Comune di Favaro.